Ciao a tutti, siamo con la signora Bresan e adesso abbiamo un po' di domande per lei. Grazie per stare nel nostro Venice Design Week. Prima domanda, in base alla tua esperienza, che cosa per te è un design per tutti? Tanto grazie a voi dell'invito, mi ha fatto molto piacere. È molto bello che ci sia un design per tutti. Lo dico come diretta interessata. Io vorrei cominciare dicendo una cosa, che purtroppo noi ultimamente, ma non solo ultimamente, sempre, siamo troppo vincolati al concetto di normalità. Il concetto di normalità, se nella storia ha avuto una necessità perché aiutava a identificare le persone in determinate categorie, e dall'altro lato ha una sorta di negatività perché catalogando le persone se ne escludono delle altre. Anche perché se noi vogliamo ben vedere, nessuno di noi è normale. Che cos'è la normalità? Siamo tutti diversi, uno è diverso dall'altro, per cui è difficile poter dire tu sei normale e tu non lo sei. Perché dove sta scritto? Non è detto che una persona, perché magari non so, una persona è bionda, è diversa da una persona mora e quindi una delle due non è normale. No, sono tutte normali, nelle loro diversità. Per cui è molto bello che ci sia un, ecco diciamo, dire un design per tutti, forse è un affermare qualcosa che avrebbe dovuto sempre essere. Perché se il design studia l'utilizzazione di determinati oggetti e la fruizione di determinati servizi, dovrebbe essere anche normale che sia un servizio, un oggetto rivolto a tutti. Quindi ben venga questa cosa, forse andava fatta ancora prima. Possiamo parlare con la tua esperienza e con il volo? Sì, allora, io volo da un pochi di anni, ho preso il brevetto di volo e l'ho preso con una scuola, diciamo, molto particolare perché ha la possibilità di mettere a disposizione dei propri allunni, di alcuni dei propri studenti, degli aerei con un pilotaggio modificato. E quindi non utilizzo i piedi per coordinarmi con il timone, con il timone dietro, ma utilizzo solo le mani. Quindi, diciamo, è una cosa molto, molto bella perché dà la possibilità di vivere questa esperienza. Ed è una cosa bella, al di là di quello che potrebbe essere la passione, che può piacere il volo. È una bellissima sensazione quella di staccare le ruote da terra e volare. Però la cosa bella, a mio avviso, parlo per me personalmente, è che mi dà la possibilità di spostare i paletti delle mie capacità. Perché effettivamente pensare che un disabile possa volare non è una cosa che fino a poco tempo fa veniva accettata normalmente. E quindi, diciamo, che la soddisfazione mia personale di volare, oltre al fatto, appunto, di volare, è quella di dire ho fatto qualcosa in più rispetto a quello che la gente si aspetta che io possa fare. Ci racconti la tua esperienza di accessibilità? Sì, sì. Allora, molto volentieri. Io vorrei parlarti più che delle mie esperienze di accessibilità, delle mie esperienze di non accessibilità, che sono anche divertenti a volte, se non fossero tragiche per chi lo deve purtroppo subire. Allora, guarda, io vi racconto soltanto alcuni particolari. Mi è successo parecchie volte di entrare in bagni per disabili, quindi studiati proprio per dei disabili, e trovarmi l'apertura dell'acqua, il rubinetto, azionato a pedale. E questa è una cosa abbastanza ridicola. Se uno ci pensa un attimo, dice, ma dove sta? Cioè, il disabile, le gambe spesso non le può muovere. Ma a parte la mia disabilità, ci sono anche tante altre disabilità. Molto spesso, ritornando sempre nel discorso bagni, queste famose maniglie che vengono messe a destra e sinistra, io immagino come vadano le cose. Cioè, praticamente arriva l'operaio con queste maniglie e il geometra gli dice, ok, applica le maniglie. Questo qui, poverino, si trova con queste maniglie, dice, dove le metto queste? E le mette così un po' a caso. Perché? Perché forse alla base non c'è neanche una preparazione da parte delle persone che dovrebbero comunque costruire, che dovrebbero fare. Vanno molto, molto a caso. Poi un'altra cosa ancora che io vorrei dire a proposito del design per tutti, proprio per il discorso del design. Le cose studiate per i disabili normalmente sono bruttissime. Sono esteticamente inguardabili. Perché? Perché si trova una categoria, il disabile è l'ospedalizzato, è quello che deve essere curato. No, non è così, non è vero. Noi viviamo fuori dall'ospedale, non abbiamo bisogno di essere curati, dobbiamo solo essere messi in condizione di usufruire di servizi come tutte le persone. Per cui non necessariamente gli oggetti destinati ai disabili devono essere anche degli oggetti brutti. Anzi, a maggior ragione dovrebbero essere belli. Un'altra cosa ancora che io vorrei dire è che il design per le persone disabili, in realtà dovrebbe essere un design per tutti quanti. Perché se noi vogliamo vedere, i disabili sono una categoria a parte. Se invece un qualsiasi oggetto può essere utilizzato dai normali e anche dai disabili, anche la fruizione è maggiore. Quindi il campo d'azione è molto più, ha un'applicazione molto più vasta. Inoltre vorrei dire un'ultima cosa e poi basta. Un designer che studia un oggetto che sia utilizzabile per molti deve sfruttare molto di più le proprie capacità di inventiva. Quindi diciamo che è sempre una marcia in più programmare, progettare oggetti fruibili da tutti quanti. Grazie per stare con noi in il nostro Design Week. Grazie a voi Ceren, grazie a tutti quanti e buon lavoro. Grazie.